La seconda volta in assoluto in cui il Nardò non segna e meno indolore di quanto non dica il pareggio contro il Potenza. Un punto che permette alla squadra di Nicola Ragno di rintuzzare il ritorno della Virtus Franca Villa, l'unica formazione guarda caso contro la quale i nerettini non solo sono rimasti a secco ma anche rimediato una sconfitta. Il primato resta nelle mali del Nardò mentre cambiano i protagonisti della rimonta. Al già citato Virtus Franca Villa, 1-0 sul Fondi in un vero e proprio scontro diretto di alta classifica, si affianca il Franca Villa che pareggia in trasferta con l'Isola Liri, mentre scivola ulteriormente il Taranto. C'erano segnali di crisi nella sconfitta contro la Turris, mascherati dal pareggio casalingo contro il Nardò, ma riesplosi con lo stop, il più sorprendente della domenica, in casa dell'Aprilia. Laziali che lasciano l'ultimo posto in gran parte per merito proprio, ma anche grazie al successo del Manfredonia sul Picerno. La squadra di Vadacca fa soprattutto un favore a se stessa, con questa prima vittoria in trasferta, la seconda di fila, buona per allontanare la zona calda della classifica e tenere a distanza di sicurezza al momento anche l'ipotesi play-out. Anche questa domenica va in gol alla Porta, decisivo per il 2-1 dopo il vantaggio di Coccia e il momentaneo pareggio di Gerardi, a conferma che gli ultimi innesti si stanno rivelando preziosi per i sipontini. Non lontanissimo dalla zona play-off invece ci resta il Biceglie, capace suo malgrado di adattarsi all'avversario. Grande con le grandi, vedi successi su Fondi, Taranto e Francavilla, piccolo con le formazioni di bassa classifica. La conferma arriva con il pareggio a Gallipoli, altra occasione sciupata dopo il vantaggio di Volpicelli, per fare un bel balzo in avanti in classifica e sedersi al tavolo delle migliori del girone. Dove meriterebbe di stare anche il Sansevero. Il successo netto sul Marcianise, 3-0 con la doppietta di Florio e il gol di Evacuo, è utile per la salvezza, anche se sul campo la formazione d'Auna ha collezionato 18 punti, gli stessi del Fondi, che avrebbe dovuto comandare dall'inizio questo campionato.